Musica Sabato 23 dicembre 2017, buongiorno, bentrovati, appuntamento come di consueto con la nostra rassegna stampa, mattino 6 che si apre con la lettura dei quotidiani Oggi Nedicola, partiamo come sempre dalle prime pagine dei giornali abruzzesi, iniziamo con il centro, l'edizione di Pescara, vedete in alto il titolo che riguarda questa tragedia accaduta ieri sul Gran Sasso, ucciso dalla valanga, l'amico si salva e chiede aiuto dopo 11 mesi, torna la paura vissuta a Rigopiano e poi lettera al ministro Biotestamento, l'abruzzese Severino, scrive al Lorenzin e poi lavoro in Abruzzo, centri per l'impiego scoppia il caos per 20.000 disoccupati. Siamo sempre in questo caso all'edizione di Pescara del centro, proprio a Pescara lavori non pagati, lira dei costruttori, parla l'imprenditore Sciarra del Lance, tra l'altro ritardi degli clienti, fino a 12 mesi nessun piano di interventi. Sempre nel capoluogo adriatico il Comune annuncia lo sfratto del mercatino di Natale che vedete inquadrato nella foto a centropagina, irregolarità secondo l'amministrazione comunale nella struttura di piazza Sacro Cuore, sempre a Pescara, Alessandrini e i consiglieri basta assenze, la polemica dopo il mancato consiglio comunale dell'altro ieri proprio per l'assenza di diversi consiglieri. Poi Rancitelli, ecco 11 milioni per i palazzi che erano stati sgomberati per problemi statici e poi Montesilvano, fuochi d'artificio, scatta il divieto fino al 7 gennaio in basso. Lo Sport, il Pescara, Zeman, Sebastiani, la tregua, tecnico e patron si chiariscono, Benali KO è stato operato alla mano. E poi per quanto riguarda il mercato che aprirà i battenti il 2 gennaio, piacciono al Pescara Carriero e Damian. E poi una notizia che riguarda il Parco Nazionale dove sono nati 12 orsacchiotti. Lasciamo la prima pagina del centro di edizione di Pescara, siamo a quella dell'Aquila, a case scuole in arrivo 160 milioni. L'Aquila ad Alfonso annuncia gli interventi per le zone colpite dal sisma. E poi a Sulmona, Consiglio Comunale straordinario, dai sindaci coro di no alla chiusura del Tribunale. L'Aquila da Collemaggio sparite le spoglie di un beato, politica Piccone lascia la poltrona in Parlamento. E poi a Luco De Marsi, voti e favori, spunta l'esposto. Contro il sindaco in basso, Annalisa De Simone, guida il teatro stabile abruzzese. Natali Dompe si dimette, la scrittrice sorpresa e felice. Siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo, concorso Aslin 7000. Vedete il titolo per 30 posti. Teramo, selezione per infermieri, le domande arrivate da tutta Italia. E poi lo sport in primo piano sull'edizione di Teramo del centro, perché ieri si sono giocate le gare di campionato in Serie C e il Teramo si è regalato un importante successo battendo per 2 a 0 il Mestre nella ripresa alle due reti della formazione bianco-rossa con Caidi e Barbuti. Più avanti vedremo ovviamente il servizio su questa partita. E poi troppo cloro nell'acqua, la ASL avvisa il Ruzzo. Siamo nel Teramano, Giulianova De Gente spaccia in ospedale, scatta l'arresto. E poi a Montore Alvomano, vedete in basso, maxi torneo di stu, centinaia di partecipanti per l'antico gioco di carte. Siamo alla prima pagina del centro edizione di Chieti, Lanciano Vasto, sangue sulle strade, un morto e tre feriti, la vittima Orsonia nel frontale fra auto a Chieti. Donna investita e poi fusioni strategiche, ora tocca a Confartigianato, Chieti va ad incorporare l'Aquila. Vedete nella foto i rappresentanti delle due sezioni di Confartigianato di Chieti e l'Aquila al momento dell'incontro, proprio per questa fusione tra le due sedi. E poi cronache. A Chieti, anziana, muore in ospedale, aperta inchiesta. E poi Vasto, emodinamica, arrivano i fondi per i primi lavori. Ad Atessa, Cisle, più aziende nell'indotto legato alla Sevel. In basso, a Vasto, la deputata Vastese, l'euro parlamentare aiuto, denuncia l'ex per offese e chiede 150 mila euro di danni. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Vedete in primo piano la notizia con cui abbiamo aperto l'edizione di oggi di mattino 6. Travolto e ucciso dalla valanga, Gran Sasso, due escursionisti si avventurano lungo un canalone di pizzo cefalone, uno si salva, l'altro morto sul colpo. La vittima è un teologo dell'Università Pontificia. Andiamo avanti, vediamo anche gli altri titoli. Chieti, schianto fatale per un padre di quattro figli, è accaduto ieri sera in provincia di Chieti ad Orsogna. E poi, pioggia di milioni per chiese, scuole alloggi, post-sisma, il governatore Luciano D'Alfonso dice somma che ci farà risolvere tanti problemi. Mercatino natalizio, l'ora delle denunce, feste rovinate, la Confesercenti rischia la revoca dei permessi, abbiamo visto anche prima dal centro. E poi, debiti, approvato il piano di rientro. Siamo alla politica regionale, contrario il Movimento 5 Stelle, astenuti i consiglieri di Forza Italia, Abruzzo Futuro e Alternativa Popolare. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano, la città, ancora problemi all'acqua del Ruzzo, troppo cloro nel potabilizzatore, nelle tubature della costa, trovato trialometani oltre i limiti. E poi, vedete il titolo a centro pagina che riguarda questa tragedia accaduta sul Gran Sasso, la morte bianca, sacerdote travolto e ucciso da una valanga. E poi, per le ferrovie Teramo diventa Tetamo, questa notizia curiosa che riporta il quotidiano della città. Giulianova spacciava droga nella corsia dell'ospedale, poi inquinamento acqua rossa nel fiume Vomano. In basso, il diavolo si fa il regalo di Natale, 2 a 0 al mestre e vacanze, con soddisfazione per i biancorossi che si allontanano dalla zona calda della classifica. Andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, Crisi Spagnola, Raoy Gela Puindemont. Parlerò con chi ha vinto, non con lui. Si parla di quello che sta accadendo in Spagna con questo colloquio che dovrebbe esserci a giorni, ad ore, tra il primo ministro e il politico catalano. E poi, ultimo sì, passa la manovra. Le nuove nomine per quanto riguarda l'arma dei carabinieri, Nistri, al vertice proprio dell'arma. Nava guiderà la Consov, pensioni e fisco, il via libera prima dello scioglimento delle camere. Oggi il testo al Senato. E poi, svolta a Mantova, la vicenda che aveva riguardato il sindaco, Palazzi e la ciatta erotica, indagata la donna e il riscatto del primo cittadino. Era lei che alterava gli sms. E poi le interviste del Corriere della Sera. Parla il presidente della Camera, Laura Boldrini, che sceglie liberi e uguali. No, hai 5 stelle. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica. Renzi, io al Senato, gentiloni in campo con tutti i ministri. Entro il 29 sciolte le camere. Voto il 4 marzo. Dalle mancia al bonus la manovra elettorale. Boldrini farò campagna insieme a Grasso. E poi vedete questa foto a centropagina. Il viaggio dei rifiuti da Roma agli inceneritori emiliani. Ora tocca all'ex grillino Pizzarotti salvare il sindaco di Roma. Raggi. Siamo alla stampa di Torino. Salviamo l'Europa. Il piano di Prodi. L'ex premier dice ripartiamo dal welfare. 150 miliardi l'anno per salute, istruzione ed edilizia. E poi dalla Libia all'Italia, prima volta senza barcone. Aperto il corridoio umanitario. 162 profughi arrivate a pratica di mare. Minniti. Giorno storico, ha detto il ministro degli interni. Siamo al fatto quotidiano, vergogna infinita. Dell'Utri torni a casa per Natale. Incredibile richiesta del procuratore generale di Caltanisetta al processo di revisione. Questo il titolo in alto del fatto quotidiano sulla vicenda di Dell'Utri che potrebbe uscire dal carcere proprio per motivi di salute. E poi a centropagina il numero 2 dell'arma avvertì del 7, dice delle accuse per la soffiata Consip. Maruccia, capo di Stato Maggiore, attenti a indagare su Tiziano Renzi. Scrive sempre il fatto quotidiano. Siamo al manifesto. Risico Ilva, occupazione contro salute, sindacati e governo contro regione comune. Le micidiali polveri dell'acciaio al centro di uno scontro politico che spinge Gentiloni nella mischia per chiedere a Emiliano di ritirare il ricorso. Siamo alla prima pagina del messaggero nazionale. Di vario nord-sud effetto sul voto. Nel mezzogiorno reddito delle famiglie più basso del 35%. E poi a centropagina i separatisti muro contro muro. Il premier spagnolo rifiuta l'incontro con Puindemonte. Ma abbiamo visto dal Corriere della Sera che potrebbero esserci speranze di un faccia a faccia nei prossimi giorni e nelle prossime ore. E poi un richiamo di calcio. La sfida Roma, la notte della verità con la Juventus. Serve un'impresa perché si giocano questa sera le gare del campionato di Serie A. Il tempo di Roma. Di sé in giro per ospedali. Trovate un letto per Dell'Utri. Niente posto in due strutture. L'ex senatore torna in carcere. C'è un giudice a Caltanisetta. La procura chiede di sospendere la pena. Libero vendono ai cinesi i nostri porti per quattro soldi dopo aver ceduto gioielli ai francesi e dato l'anima ai tedeschi. Apriamo le porte a Pechino che già ha un terzo di rete telefonica. Proseguiamo con il quotidiano La Verità. Giovanna denunciata Maria Elena candidata. Dopo aver rovinato i clienti delle banche con il belin, il bullo li porta in tribunale se osano contestarlo. Colto con le mani nel sacco, il tesoriere Bonifazi tenta una mezza retromarcia. Ma il PD è allo sbando, scrive il quotidiano. La verità. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano della conferenza episcopale italiana Avvenire. Corridoio di Natale nel cielo della Libia. Iniziativa C'è il governo in salvo. 162 profughi. E poi pena rieducativa e meno carcere. Ecco la riforma. Primo passo per le misure alternative. Siamo al mattino. Napoli si ribella alla violenza. 5.000 in piazza al grido di tutti per Arturo e quattro aggressori del ragazzo coperti dalle famiglie. Il liceale ha subito anche il distacco della pleura. Rischia un nuovo intervento. La madre dice proteggeteci. E poi, questo era l'ultimo quotidiano che riguarda l'edicola nazionale. Possiamo dunque tornare sul centro e dunque alle vicende di casa nostra. Partiamo da pagina 2. Il lavoro in Abruzzo. Centri dell'impiego. Caos per 20.000 disoccupati. Partita la rivoluzione digitale. I dati trasferiti in massa dalle province alla regione. Ma decine di senza lavoro risultano impiegati. L'assessore Andrea Gerosolimo dice che si sistemerà tutto. E poi in basso la politica. Perché, come abbiamo visto, il 29 dovrebbero essere sciolte le Camere. E si guarda già le prossime elezioni. E il parlamentare Filippo Piccone si dimette dalla Camera. Il deputato Marsicano punta all'Europarlamento. Al suo posto entra Verrecchia. Questa è la notizia che riguarda pagina 2. Andiamo a vedere invece la notizia, la pagina che riguarda la tragedia accaduta ieri sul Gran Sasso. La valanga travolge e uccide un teologo. L'amico si salva e guida i soccorritori con il cellulare. Il corpo del professore polacco viene trovato senza vita da un cane. Vedete a fianco la foto della vittima Yacek Omnisuk. Era direttore all'Università del Vaticano ed era docente appunto alla Pontificia Università Gregoriana. Aveva 51 anni. E poi in basso. Pizzocefaloni rischi spiegati dall'esperto. L'avvertimento di Paolo De Luca, maestro di C. Prima di avventurarsi, dice De Luca, è sempre importante consultare i bollettini meteo. Siamo alla pagina che riguarda la cronaca regionale. Si parla di fusioni strategiche perché non tocca solo alle Camere di Commercio, ma anche alle Confederazioni Abruzziesi. Si parla in questo caso di Confartigianato. Tocca infatti a Confartigianato Chieti. Va ad incorporare l'Aquila del nuovo organismo. Fanno parte 2.500 imprese associate con 6.000 addetti. Giangiulli. L'obiettivo, dice il finale, è la creazione di un'unica entità regionale. Vedete la foto. E poi di spalla. Ecco dove andare. Porte aperte nei musei durante le feste di Natale. E poi elezioni. PD al lavoro per definire le candidature entro il 10 gennaio. E poi il bilancio verso l'approvazione nella notte. Bilancio regionale. Pace tra maggioranza e opposizione. Spariscono 950 emendamenti ostruzionistici. Legge sul biotestamento e polemiche. Severino scrive al Ministro. La prego. Non dica assurdità. Mingroni, disabile grave di Casoli. Invia una lettera molto critica alla Lorenzin. Niente obiezioni di coscienza. Vigili affinché i medici rispettino le nostre volontà. E poi vedete di fianco nell'articolo in Grigiex. Guardie Mediche. Regione 4 Asle. Firmano l'accordo che non salva il passato. E poi le buone notizie che riguardano il Parco Nazionale. A spasso nel Parco 12 Orsacchiotti. Le mamme monitorate sono 6. Il numero più alto di nascite degli ultimi anni. Questa davvero una bella notizia per il Parco Nazionale d'Abruzzo. Siamo alla cronaca di Pescara. La polemica di Natale. L'ira del sindaco. Qui non è un pranzo di gala. Alessandrini contro i consiglieri della maggioranza che hanno disertato la seduta sull'Atari. Poi traccia un bilancio del 2017 e svela gli obiettivi del nuovo anno. Dunque ieri c'è stato il brindisi del primo cittadino di Pescara. Il saluto e gli auguri ai pescaresi. Ma non è mancato qualche accenno polemico. Proprio all'ultima seduta di consiglio saltata. Bisognava cercare di approvare il bilancio. Saltata proprio per l'assenza di diversi consiglieri. Allora noi possiamo andare a vedere il primo servizio. Eravamo presenti con le nostre telecamere a questo incontro del sindaco Alessandrini con la stampa per fare un bilancio del 2017. Vediamo. Il sindaco di Pescara fa gli auguri alla città, ai pescaresi, ma anche un bilancio del 2017. Poco prima parlava di un bilancio che forse si poteva approvare ma che per il lassismo di alcuni consiglieri invece slitterà. È andato a deserto il consiglio comune alle di eri. Un bilancio dell'anno 2017 ed è un bilancio naturalmente positivo di lavoro e di impegno profuso. In quest'ottica naturalmente dispiace che il bilancio, che è senz'altro l'atto amministrativo più importante, che noi abbiamo portato all'approvazione del consiglio con congo preavviso, perché se guardate in giro escludo che vi siano molti consigli comunali in questa regione che portano il bilancio del 2018 entro il 2017. C'è stato un incidente che intendo sottolineare in quanto il consiglio comunale non è un pranzo di gala, naturalmente è un luogo a cui si è chiamati ad assolvere un compito per il quale ci si è candidati, per il quale addirittura si è anche pagati e quindi penso sia necessario sottolineare questo. Non è la fine del mondo naturalmente, però bisogna considerare un rispetto che io credo si debba alle istituzioni che non sono palazzi vuoti di marmo ma sono animati dalle persone che con le loro condotte individuali devono nobilitarli. Ecco, questo è il senso di questa sottolineatura e naturalmente, visto che comunque noi guardiamo sempre avanti, con un sorriso vogliamo continuare a procedere nel lavoro, ci sarebbe piaciuto finire prima di Natale, questo non perché dobbiamo mangiare il tacchino ma per, diciamo, buon senso e nel frattempo appunto facciamo gli auguri per questo imminente Natale e poi secondo me per l'anno nuovo avremo altre occasioni prima di rivederci. Riqualificazione delle periferie, riqualificazione delle aree di risulta, nuovo stadio, la città è destinata a cambiare volto, alcuni progetti probabilmente verranno messi in campo già dal prossimo anno. Sono stato lunedì scorso a Roma, Palazzo Chigi, prestigiosa sede, c'era anche Paolo Gentiloni per firmare questo patto per le periferie, sono i 500 milioni di euro messi in campo dal governo Renzi per le periferie, arrivano oggi, a Pescara arrivano 18 milioni, 18 milioni di denaro pubblico che si incrociano con interventi privati che moltiplicano per tre il valore complessivo dell'intervento svolto per riqualificare in tutti i quartieri della città appunto la nostra Pescara. Poi c'è il tema dello stadio, molto suggestivo e poi naturalmente le grandi sfide dell'area di risulta perché noi siamo pronti ad andare nel primo trimestre dell'anno prossimo con la variante urbanistica e quindi con l'avvio del procedimento che dovrà naturalmente passare attraverso un bando pubblico per verificare se il mercato è in grado di rispondere a questa sollecitazione legata alla sistemazione di questi 11 ettari nel cuore pulsante della nostra città. Andiamo avanti, restiamo sempre alla cronaca di Pescara, ad Alfonso referendum, altre indagini, lettera di propaganda no all'archiviazione, il fascicolo aperto ancora sei mesi e poi andiamo più in basso, sciarra ritardi di un anno nel pagamento dei lavori, il presidente dell'associazione dei costruttori critica la pubblica amministrazione, gli interventi non vengono programmati così non si aiuta il settore dice Marco Sciarra del Lance e poi in basso messa in sicurezza la strada via delle Fornaci riaperta al traffico e il lungomare sud torna a doppio senso, chiuso il cantiere anti allagamenti. Arrivano 11 milioni per ricostruire i palazzi di Rancitelli, questa è la notizia di apertura di pagina 23, lo stato stanza i fondi per i tre edifici di via Lago di Borgiano a rischio crollo a luglio erano state sgomberate come molti ricorderanno, 84 famiglie e poi bottiglie petardi vietati durante le feste natalizie a Pescara e poi operazione dei carabinieri della compagnia adriatica, controlli nelle zone a rischio denunciate, tre persone. Proseguiamo, controllo dei nas e della capitaneria, siamo sempre a Pescara, sotto sequestro un deposito di pesce non autorizzato e poi ci spostiamo a San Giovanni Teatino, grande distribuzione in sciopero, manifestazione vicino a Ipercop dei lavoratori in attesa del contratto nazionale da quattro anni. Ieri la manifestazione proprio a San Giovanni Teatino, c'erano diversi lavoratori della grande distribuzione, possiamo andare a vedere il servizio in merito. Oggi per noi è una splendida giornata perché ribadiamo a questi signori che non ci stiamo, forza e coraggio! Quali sono i motivi di questa manifestazione oggi qui a San Giovanni Teatino? Noi siamo qua per protestare per i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del commercio, in realtà parliamo in particolare della distribuzione cooperativa e quindi Ipercop, in particolare è di Feder Distribuzione e quindi la grande distribuzione moderna organizzata. Questi lavoratori sono senza contratto da quattro anni con peggioramenti delle condizioni di lavoro rispetto a colleghi che stanno in altre aziende, sia dal livello economico che dal punto di vista normativo. Sono lavoratori che oramai non hanno più una vita privata perché lavorano domeniche, festivi, adesso siamo sotto Natale e si comincia a parlare anche di aperture nei giorni di Natale, nei giorni di Santo Stefano, quindi non ne possiamo più. Chiedete il rinnovo del contratto e poi cosa ancora? Noi chiediamo il rinnovo per la distribuzione cooperativa, per Feder Distribuzione si è una situazione particolare per cui questi lavoratori non hanno mai avuto un contratto nazionale di lavoro, non è mai stato firmato un contratto con Feder Distribuzione e si è creato anche un voto normativo che viola anche la Costituzione. Andiamo ancora avanti, liceo classico, geritori in rivolta, non pagheremo gli 80 euro, la pace tra preside e studenti non ha placato le polemiche sulla settimana corta, vogliamo un referendum oppure non verseremo più il contributo volontario. Andiamo avanti, l'imprenditrice di Agostino, nuovo presidente di Ecipa, l'ente di formazione della CNA, vedete poi lo sfratto al mercatino di Natale, il dirigente del comune dice ci sono irregolarità nella struttura di piazza Sacro Cuore, faremo la revoca. E poi di spalla l'ex comandante dei vigili Gabriele Cespa salvò un bagnante a Rocca San Giovanni, è stato premiato, ha ricevuto un riconoscimento per quanto fatto proprio a Rocca San Giovanni. Siamo alla pagina di Montesilvano, del centro, feste sicure anche nella città adriatica, vietati i botti di fine anno, attenzione ai bambini, dunque l'operazione feste sicure anche a Montesilvano. E poi al Paladin Martin, laboratorio e giochi per bambini, ancora Montesilvano, divise in otto zone contro le emergenze neve, il piano operativo varato dall'amministrazione comunale. E poi, sempre al Paladin Martin, ma un'altra iniziativa, perché questa sera ci sarà la cena per i 5.000 soci della BCC di Castiglione Messerremondo e Pianella. In basso nasce la casa delle associazioni cittadine, entro il 15 gennaio si può presentare la domanda per entrare a far parte del luogo di aggregazione. Siamo alla pagina ancora dell'area metropolitana di Pescara, Città Sant'Angelo rifiuti, Città Sant'Angelo si converte al porta a porta, il servizio curato dalla Linda S.p.A. sarà attivato a partire dal mese di giugno, a breve il bando per reclutare il personale e la consegna dei mastelli cittadini. E poi Spoltore a Villa Santa Maria è festa per Natale e poi Adelice, Casalinga in gara, vince la Mugnaia, non poteva essere diversamente, visto che la Mugnaia è proprio il piatto tipico della zona di Elice. Tappi di plastica per una carrozzina Spoltore, l'associazione Fontevecchia aderisce alla raccolta in favore della misericordia. Proseguiamo, siamo alla pagina di Francavilla, di San Giovanni Teatino, partiamo in alto da San Giovanni Teatino, festa al centro d'Abruzzo e poi Francavilla, Cimitero entro marzo, pronti Loculi e Cappelle. Sempre a Francavilla la nazionale italiana Pizzaioli apre i suoi corsi proprio nella città rivierasca, corsi che partiranno dal 15 gennaio. Siamo alla pagina dell'area Vestine dell'Alta Val Perscara, partiamo dall'alto, dalla parte alta della pagina. Festa nel reparto di riabilitazione in ricordo di Manuela, cerimonia organizzata dalla Oslus all'ospedale di Popoli e poi riserva del lago di Penne, si rinnova la gestione, il comune ha indetto la gara d'appalto per affidare i servizi dell'area naturale e poi ancora Penne, il sindaco a Mancini, il manager dell'Asli Pescara, non togliete medici al reparto di ortopedia e poi vigili del fuoco in azione a Penne, attivo il distaccamento per l'area Vestina con 28 uomini e 4 mezzi. Infine in basso a Torre dei Passi, il primo campionato di Pickleball, campionato che si terrà il 26 dicembre. Siamo alla pagina di Chieti del centro, muore nello scontro frontale tra due auto, è accaduto a Dorsogna. Se la regia è pronta possiamo mandare anche le immagini su questo incidente che è accaduto, vedete le immagini nella serata di ieri, la vittima è un operaio in pensione di Guardia Grele, era sul sedile posteriore, illesa la moglie, due feriti ricoverati negli ospedali di Chieti e Pescara, un terribile incidente proprio nella serata di ieri nel centro di Orsogna proprio in provincia di Chieti. Vedete queste immagini poi dei rilievi che sono stati effettuati dai carabinieri. E sempre a Chieti, in via Signo Aereo, una donna investita da un furgone in pieno centro è stata trasportata a Pescara e ricoverata con una prognosi di 60 giorni. Restiamo a Chieti, muore in ospedale, aperta l'inchiesta. E poi l'eurodeputata vastese Daniela Iuto denuncia l'ex per le offese sui social. Proseguiamo, pagina dell'Aquila del centro, in questo caso siamo però in Valle Peligna sul Mona, sul Mona consiglio straordinario, no unanime alla chiusura del tribunale. I sindaci del comprensorio insieme per salvare il presidio parla il sindaco di Sul Mona, Anna Maria Casini, che dice stiamo solo rivendicando i nostri sacrosanti diritti. E poi in basso, centrale del gas, il governo autorizza Snam, delibera del Consiglio dei Ministri dalla contestata opera necessaria, dice il governo, per gli approvvigionamenti. Siamo alla pagina del centro di Teramo, in 7 mila per 30 posti da infermiere, la ASLA cerca personale, nuovo maxiconcorso in arrivo, il 16 gennaio a Pesaro, la prova preselettiva con candidati che arriveranno da tutta Italia. Italia, e poi Prati di Tivo, poca neve, slitta la riapertura degli impianti di risalita. E poi a Giulianova, ricoverato spaccio in ospedale arrestato, la Polstrada lo sorprende mentre vende eroina nell'atrio di ortopedia. E ne aveva altra in camera, operazione della Polizia Stradale di Giulianova. Siamo arrivati alle pagine dello sport del centro, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del messaggero Abruzzo, del quotidiano La Città, lo faremo tra qualche istante. Ora ci fermiamo per andare a vedere le previsioni del tempo, poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6. Partiamo dalle pagine interne ora del inserto Abruzzo, del messaggero. La ricostruzione chiese scuole alloggi dal governo, arrivano 160 milioni. L'intervento permetterà il recupero anche di municipi e case popolari. Parla il presidente della regione D'Alfonso che dice somma straordinaria che ci farà risolvere tanti problemi. Ma possiamo andare a vedere il servizio di Alfredo Primante. A disposizione della regione Abruzzo per il post-sisma 2016-2017 ci sono oltre 100 milioni di euro di risorse. Gli interventi riguarderanno gli edifici scolastici, l'edilizia popolare e le strutture pubbliche come municipi ed ospedali. Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha dettato anche i tempi. In 90 giorni si dovrebbe partire con le gare d'appalto attivando tutte le procedure necessarie per aprire i cantieri. Lo stanziamento è stato deciso dalla Commissione per la ricostruzione presieduta dal commissario straordinario per il Centro Italia, Paola De Micheli alla quale hanno partecipato i presidenti delle quattro regioni interessate cioè Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella veste di vicecommissari. Finalmente copriamo finanziariamente il fabbisogno di risorse per quanto riguarda le case popolari della provincia di Teramo, le case popolari dei comuni del nuovo cratere sismico della provincia aquilana e anche interventi nella provincia pescarese per quella parte che ha subito danni. Sono molto soddisfatto perché 72 milioni di euro non si erano mai visti tutti in una volta per le case Ater, così come sono soddisfatto per i fondi al Braga di Teramo, alla sede comunale di Teramo, alla prefettura di Teramo, alla provincia di Teramo, le risorse a Monte Reale, le risorse a Campotosto, a Capitignano. Mai si è visto con questa velocità la maniera di deliberare sia del comitato strategico di cui facciamo parte i quattro presidenti e la De Micheli, ma anche questa attività di supporto dell'ufficio della ricostruzione. Andiamo ancora avanti, già consegnate 90 casette, altre 45 in arrivo prima del grande freddo, si parla del post-sisma. E poi in basso, nuovi centri commerciali, arriva lo stop. La norma approvata dall'Assemblea legislativa vieta l'apertura di altri megamarket fino al 2021. Siamo a Pescara, a Ponte Fraiano, il giorno più bello. Il sindaco Alessandrini tira le somme del 2017 e si arrabbia con i suoi per il rinvio dei lavori sul bilancio e dice che sciatteria, lo abbiamo ascoltato, abbiamo visto prima l'intervista con il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, considero la nuova Pescara un'opportunità, ma il Consiglio ha bisogno della proroga di un mese per potersi pronunciare. E poi riaperti via delle Fornaci e Rivera Sud a Pescara e poi ancora a Capodanno Sicuro, Petardi e Vetro, scatta l'ordinanza di divieto. Mercato natalizio, revoca e denunce, Abruzzo e Venti, seconda classificata al Bando del Comune, contesta l'installazione di confessercenti a Piazza Sacro Cuore, esposto contro il dirigente che ribatte, controlli eseguiti con tanto di prescrizioni, a rischio i permessi per le casette. E poi il Megari Apref, il tutto esaurito, pazza idea da giambo, Nettuno, Latino, la Movida in fermento per queste festività. E poi propaganda per il referendum, D'Alfonso e gli SMS, il GIP non archivia. Proseguiamo, fondi post-terremoto per ricostruire i palazzi da abbattere, 11 milioni e mezzo per gli edifici di Via Lago di Borgiano, esultano Blasioli e Del Vecchio, bella notizia per 84 famiglie. E poi grande distribuzione, manifestazione e sciopero dei lavoratori per il contratto. Abbiamo visto poco fa il servizio, siamo all'Aquila, sempre dalle pagine del messaggero, escursionista ucciso dalla valanga. Li troviamo questa drammatica notizia. I due si avventurano in un canalone del pizzocefalone, presi in pieno dalla Slavina, uno salvo, l'altro sepolto dalla neve. La vittima, come abbiamo visto anche prima, è uno docente della Pontificia Università Gregoriana, l'altro lavora nello stesso istituto religioso. entrambi sono polacchi. E poi i commercianti, la gente torna in centro, non si tratta soltanto di shopping, ma di far rivivere la città durante le feste, lo dicono ovviamente i commercianti dell'Aquila. E poi l'evento, perché dopo il restauro, la crocifissione torna a San Bernardino. Proseguiamo con la pagina che riguarda ancora l'Aquila. La città sarà sempre più smart, infatti il Comune vuole realizzare una piattaforma che integri sistemi informativi gestionali con quelli amministrativi. Una vera e propria svolta che permette al Municipio di colmare un gap tecnologico ora molto accentuato. E poi istruzione, scuole, appello per il cronoprogramma. Carla Cimoroni, di molti edifici, dice non sappiamo nulla. E poi il teatro cibernetico del Teatro Stabile Abruzzese, l'addio a Maurizio Di Mattia, sinfonica abruzzese. Il tour prende il via. Proseguiamo, siamo alla pagina di Avezzano Sulmona. Scambio voti, sindaco di Luco indagato. Leggiamo dal messaggero. La De Rosa avrebbe fatto promesse ai suoi elettori. Ti assumo al supermercato. Ora partono i riscontri. Chi mi accusa se ne assumerà le responsabilità, dice il primo cittadino. Le indagini sono della squadra di polizia giudiziaria. Sulmona, sede del Classico, dopo otto anni si parla ancora al futuro. Avezzano, Piccone non è più deputato, al suo posto Verrecchia. E poi ancora Sulmona, bimillenario di Ovidio, ora è legge dello Stato. Ad Avezzano, Sanità, le accuse di Tangredi creano il caos. E poi a Pescasseroli, questa notizia che riguarda il Parco Nazionale, Orso Marsicano, riprodotte, sei femmine. Siamo alla pagina di Chieti. Strade di sangue, in poche ore un morto e cinque feriti gravi. Orsonia, frontale, perde la vita sul colpo. Un 64enne di guardia grele, moglie illesa. Paura in centro a Chieti, anziana investita, vicino alle strisce fantasma. E poi economia, vedete, di spalla. Confartigianato raddoppia, colosso da 2.500 imprese. Camera di commercio, cicloturismo al via il corso di alta scuola. E poi la festa di Natale per il liceo Masci, al super cinema, balli, rock e cori. In basso, crack, carichieti, parte citazione per 208 milioni, avviata l'azione di responsabilità nei confronti di consiglieri, controllori e direttori. Siamo alla pagina di Lanciano Vastortona, lavori all'ex ippodromo, tempi record. Siamo a Lanciano, in questo caso, dove sono già pronte le nuove tribune, ospiteranno 2.400 persone in manifestazioni sportive e culturali, investiti 300 mila euro. La soddisfazione del sindaco Mario Pupillo, che dice regalo di Natale per i lancianesi, dopo le festività, maxi intervento su Corso Trento e Trieste. Ancora a Lanciano, per Natale niente ZTL, mano tesa ai commercianti. Ad Ortona, nuovo comitato del porto, resi noti i nomi dei componenti. E poi, in basso, corsa contro il tempo per salvare i tribunali. La battaglia prosegue per salvare proprio i piccoli tribunali. Il presidente di Lanciano annuncia intanto che lascerà l'incarico il primo febbraio. Siamo alla pagina di Teramo, del messaggero, lettura di Bibbia e Corano, prove di integrazione religiosa. Nella sala dell'ipogeo si incontrano le comunità cattoliche ed islamiche. Vagnoni, il buon laboratorio Martinsicuro, la Caritas diocesana, promotrice dell'intervento. E poi, i Cinque Stelle bocciano tutti l'operato di Brucchi. Ieri, a tal proposito, vi avevamo fatto vedere l'intervista con il consigliere proprio comunale di Teramo, del Cinque Stelle, Berardini. E poi la cronaca, laboratorio trovato non a norma nell'ambito di una operazione dei carabinieri del NAS di Pescara. E poi veterinario Neguai per un cavallo conteso. E poi ancora Val Vibrata, guerra delle luminarie, ad Alba, Adriatica. I lavori di notte. Siamo alla pagina di Giulianova. Doveva essere dimessa, anziana muore dopo il trasferimento in ambulanza da un padiglione all'altro dell'ospedale per sottoporsi ad una medicazione. ha avvertito un malore. Purtroppo, nonostante le cure, l'intervento degli anestesisti non si è ripresa. Giulianova a caso Ospis, Arboretti replica a Ranalli. E poi spacciava anche da ricoverato, Moscianese arrestato in corsia dagli uomini della polizia stradale. In basso, Santomero, chiude la mega discarica Ficcadenti dopo la grande protesta ambientalista. Infine Val Vibrata, Trialometani nell'acqua, Ruzzo sospende l'erogazione. Siamo alle pagine dello sport, ma dobbiamo ancora attendere prima di parlare di sport, perché dobbiamo andare a vedere insieme le pagine in terre che riguardano il quotidiano e la città. Partiamo dalla cronaca regionale, cronaca che riguarda la tragedia del Gran Sasso. Sacerdote muore travolto da una valanga, stava facendo un'escursione con un amico a Pizzo Cefalone. E poi il NAS trova un laboratorio analisi non in regola sulla costa teramana. In basso, il sottosegretario della giunta regionale, Mazzocca, annuncia 45 nuove casette d'Alfonso, 100 milioni di euro per la ricostruzione. Acqua sicura, ancora problemi all'acquedotto del Ruzzo, troppo cloro al potabilizzatore di Montorio. Sulla costa si forma del trialometano, oltre i limiti di legge. Proseguiamo, Baltur presente anche in Gomorra. Il vettore teramano investe su product placement e accordi con partner nazionali. Proseguiamo ancora, siamo a pagina 7. Le bocciature diventano programma elettorale. Il Movimento 5 Stelle fa il punto dell'attività amministrativa e rilancia l'interlocuzione con il commissario. E poi formazione, percorsi inclusivi, iscrizioni aperte per aziende e denti pubblici che cercano tirocinanti. Occhio alla passeggiatina lungo il corso. Siamo a Teramo, facile inciampare su pietre non allineate, denti negli elementi in acciaio e rifiniture che lasciano a desiderare. Proseguiamo ancora dalle pagine del Quotidiano La Città, l'evento BCC, un anno a sostegno del territorio abruzzese. Questa sera a Montesilvano si terrà la cena del socio della BCC di Castiglione Messerremondo e Pianella. Dunque, grande serata anche per festeggiare l'arrivo del Natale con i soci della BCC Erosione. Siamo in Val Vibrata, la polemica sui pennelli è inopportuna, Medeo Corsi di Martinsicuro vacanze, i problemi di Alba Adriatica non nascono da Villa Rosa. E poi, l'appello del consigliere regionale Bracco sulla VECO, 16 famiglie dice rischiano di restare senza reddito. In basso, Tortoreto, la Commissione ascolterà gli ex amministratori prima riunione del gruppo di lavoro consigliare sul caso dei buoni pasto. Siamo alla pagina di Giulianova, spaccia in corsia davanti a due agenti, paziente ricoverato nel reparto di ortopedia, beccato, accedere eroina a due clienti, Mosciano Sant'Angelo, fuga di metano, palazzo evacuato per timore di una esplosione. E poi Giulianova, variazione al bilancio nell'ultimo consiglio dell'anno, successo per gli alberi di quartiere. Invece, nel quartiere di Giulianova, Lido, Siamo alla pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi, acqua rossa nel fiuve Momano, la segnalazione del WWF ai carabinieri nel tratto tra i territori di Notaresco ed Atri. Per l'associazione sono necessari maggiori controlli e pene certe per chi danneggia l'ambiente. Atri, Babbo Natale e la Befana arrivano nella frazione di Fontanelle. e poi, sal passente al consiglio sulla Rolli, l'azienda non partecipa all'incontro, abbiamo già chiarito la nostra posizione. Pineto riprendono i lavori al sottopassaggio della stazione in basso, tornando a Roseto, operatori penalizzati rispetto ai colleghi delle altre città, il movimento Roseto al centro chiede la convocazione di un tavolo cronaca anziana derubata dal finto tecnico dell'ascensore. è accaduto sempre a Roseto degli Abruzzi e poi la cultura di Gian Berardino, poeta da ricordare, 60 anni fa le sue prime poesie e la morte prematura lo strappò dai versi. Siamo arrivati allo sport, allo sport dalle pagine del quotidiano La Città, Caidi Barbuti, il Teramo in vacanza con il sorriso, il diavolo parte lento ma nella ripresa trova le due reti della vittoria nel match con il mestre, 21 punti in classifica e a gancio in classifica proprio alla formazione Veneta. Possiamo andare a vedere dunque il servizio sulla vittoria del Teramo di ieri sera al Bonolis con il mestre, servizio curato da Andrea Costantini. Il Teramo batte il mestre per 2 a 0, due reti nella ripresa al 19esimo di Nebil Caidi, al 39esimo di Riccardo Barbuti e la squadra di Antonino Asta si regala un felice Natale. Non è stato un bel Teramo soprattutto nel primo tempo la squadra Biancorossa ha sofferto la migliore organizzazione per larghi tratti della partita del mestre. Poi però le cose sono cambiate nella ripresa grazie anche agli innesti dalla panchina, gli innesti operati dal tecnico Asta, in particolare Barbuti che era entrato al posto di Tulli dopo l'intervallo poi anche gli innesti di Sumare e Amadio. Mestre che alla fine del primo tempo aveva sfiorato il gol in due circostanze prima con Zecchin poi con Stefanelli bravo in questo secondo caso Lewandowski che oggi è stato preferito a Calore nella ripresa come detto il Teramo ha sbloccato al diciannovesimo con un'azione a calcio d'angolo con Bacio Terracino che ha pennellato in mezzo sponda di Barbuti e correzione sul secondo palo di Caidi. Il Teramo ha sofferto per un tratto poi l'innesto di Amadio ha riportato maggiore ordine a centrocampo e con una classica azione di rimessa ispirata da Sumare complice anche un errore del difensore del Mestre Boffelli Sumare ha offerto il pallone a De Grazia e poi complice un rimpallo Barbuti ha finalizzato l'azione e dunque il Teramo ha vinto questo importante confronto sul Mestre Mestre agganciato in classifica il Teramo si regala un bel Natale si ferma per ora la stagione della squadra di Asta che tornerà in campo il prossimo 20 di gennaio sempre al Bonolis ospitando il Vicenza perché il Teramo riposerà nel prossimo turno quello appunto del 30 di dicembre parliamo ancora della vittoria di ieri sera dei Biancorossi sempre dalle pagine del quotidiano la città Teramo se più ma penso già al Vicenza il tecnico Teramano Antonino Asta fa un bilancio della prima parte della stagione sul mercato aspetta due o tre pedine Zironelli tecnico della formazione Mestrina Amaro peccato mi dispiace per i ragazzi e poi Caidi difensore killer ho sperato che la palla finisse lì noi andiamo a vedere le pagine dello sport del centro e poi del messaggero ripartiamo dal Pescara le grane del Pescara titola il centro tregua Zeman Sebastiani piacciono Carriero e Damian Benali K operato alla mano tecnico e patron si sono chiariti ad Ascoli dopo lo scontro dei giorni scorsi la società punta su due bevi centrocampisti in Libico in campo fa 40 giorni e dunque Pescara che tra i tanti assenti di questo periodo dovrà rinunciare anche a Benali e giovedì prossimo contro il Venezia di Inzaghi sarà assente anche Carraro per squalifica intanto la gara con il Perugia è stata anticipata dal 27 al 26 gennaio si giocherà a Pescara venerdì 26 gennaio alle 20 e 30 e poi in basso l'intervista a Cristiano del Grosso il Delfino è sempre stato un sogno ma il mio Venezia servono punti parla l'ex di turno la scorsa estate ho sfiorato la maglia bianca azzurra e un giorno sarebbe bello vestirla Zeman è un maestro e porterà la squadra ai playoff ha detto del Grosso e poi troviamo la pagina dedicata al Teramo il Teramo vince quando decide di osare il gol che sblocca una partita brutta e difficile arriva dopo che Asta inserisce la terza punta passando al 3-4-3 abbiamo visto il servizio di Andrea Costantini abbiamo visto le immagini della partita in primo piano vedete l'esultanza di Nebil Kaidi che festeggia il gol del momentaneo 1-0 vediamo anche qualche numero della giornata di ieri per quanto riguarda il girone B di Serie C risultati della giornata ventesimo turno nel campionato di Serie C Albinole F Sud Tirol 1-1 Bassano Virtus Fano 1-0 Feralpi Salore Giana 3-2 Fermana Ravenna 0-0 Gubbio Vicenza 1-1 Padova Renate 2-1 Pordenone Sant'Arcangelo 0-1 continua a far male alla formazione friulana evidentemente la bella figura in Coppa Italia con l'Inter a San Siro e poi Teramo Mestre come detto 2-0 hanno riposato San Benedettese e Triestina al comando il Padova Lunga sul Renate Padova 37 Renate 30 San Benedettese e Ferralpi Salò 29 Reggiana 26 con Albinole F Pordenone Triestina Sud Tirol 25 poi Fermana 23 Gubbio e Bassano Virtus 22 Vicenza Mestre Ravenna e Teramo 21 poi staccate Sant'Arcangelo 16 Fano 13 punti per l'ultima cosa per quanto riguarda la gara di ieri minimo stagionale di spettatori nel freddo porale del Bonolis con 946 presenze tra gli altri ad assistere a Teramo Mestre anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e siamo alla pagina che riguarda il campionato di eccellenza Le Big Orgoglio Real Giulianova Chieti Forza del Carattere c'è stato il turno infrasettimanale c'era stato ieri con il Giulianova che è sempre padrone del campionato e in testa alla classifica e poi la Serie D perché l'Aquila ha un nuovo amministratore si tratta di David Miani il nuovo amministratore della società Rosso Blu mentre è divorzio ad Avezzano tra Paris e il direttore sportivo Marra Cutrupi durata pochi mesi l'avventura di Marra Cutrupi ad Avezzano andiamo ancora avanti per vedere e parlare di ciclismo Vini Fantini parla il patron Valentino Sciotti che dice punto sui giovani ma il ciclismo ora cambi vogliamo valorizzare i ragazzi il mio credo etica valori e passione proseguiamo il basket Roseto a caccia del colpo contro gli ex Fools e Legend questa sera la formazione rosetana nella tana della fortitudo del Teatino Mancinelli reduce dal K.O. di Montegranaro oltre 200 tifosi rosetani attesi al Paladozza gara obiettivamente difficile però per il Roseto che cercherà il miracolo e poi questa sera si gioca anche nella serie B di basket Campi Teramo la carica dei presidenti si giocherà le 20 e 30 l'amatori deve battere Civitanova per giocare la Coppa Italia e poi palla a mano vedete di fianco Lions la riscossa vuole chiudere il 2017 con un successo la formazione Teramana e poi in basso calcio a 5 Supercoppa il Pescara fa ricorso e spera oggi nel campo Acqua e Sapone Bianca Azzurri e poi palla a volo volle di serie a 2 la Sieco a Gioia del Colle senza Banks gli ortonesi in trasferta in terra pugliese possiamo andare a vedere prima di chiudere le pagine dello sport del messaggero Zeman patron avanti tutta la querelle tra Sebastiani l'allenatore ormai archiviata in vista del girone di ritorno ora bisogna sfoltire la rosa out sicuramente Gans e forse anche del sole potrebbe cambiare casacca e in attesa del mercato vittoria e pari fanno brodo per il Pescara che comunque si trova a metà classifica 4 punti nelle ultime due gare con la vittoria casalinga con il Novara ed il pareggio del Duca di Ascoli e poi il basket Roseto spera nel turnover fortitudo Mission Impossible questa sera a Bologna il coach di Paolo Antonio dice possiamo giocarcela senza alcun problema psicologico andiamo a vedere anche l'altra pagina dello sport del messaggero vedete Caidi e Barbuti decisivi Teramo batte il mestre al diciannovesimo della ripresa sugli sviluppi di un corner il laterale in scivolata in sacca in gol raddoppio poi di Barbuti a sei minuti dal termine con un rasoterra che non lascia scampo e poi il calcio a cinque vedete di Spalla Supercoppa ricorso Pescara Acqua e Sapone Big Match a Reggio e poi il volley sieco piove sul bagnato Benz Out multa pesante l'ingaggio pioneroso resta ancora fuori questa sera gara a gioia del Colle in basso il calcio di serie di Miani nuovo amministratore delegato dell'Aquila rimetto l'Aquila dice sui binari giusti e poi il rugby di Spalla Leni sponsor dell'Aquila e arriva il rinforzo via cava partecipazione sempre più attiva dopo Colle Maggio siamo quasi in chiusura ma dobbiamo andare a vedere anche le prime pagine dei tre quotidiani nazionali sportivi oggi in edicola tra l'altro si gioca lo ricordiamo in serie A questa sera dunque c'è grande attesa per partite molto molto importanti per la classifica e non solo Antipasto Real Barca Cenone Juve Roma e non solo perché si gioca come detto in serie A e ci sarà la sfida dello Juventus Stadium tra Juventus e Roma Natale con i fiocchi antivigilia super in campo la serie A tre turni da qui alla Befana in mezzo a due derby Milano e Torino di Coppa Italia il calcio per le feste e allo stadium Allegri Pungola di Bala non so se giocherà dice il tecnico e poi il sondaggio che vede il Napoli secondo esperti da detti ai lavori come favorita per il titolo d'inverno e poi fiducia a Spalletti l'Inter farà gol anche sul mercato Nerazzurri che giocheranno in casa del Sassuolo e poi l'Atalanta che gioca a San Siro Milan le lettere di Donnarumma ecco la verità Milan che è stato in ritiro per tutta la settimana dopo la sconfitta di Verona proprio per preparare la gara di questa sera si giocherà tra l'altro alle 18 a San Siro con l'Atalanta e poi in Spagna al Bernabeu alle 13 platea planetaria per l'eterno duello tra Ronaldo e Messi ma vediamo il programma che riguarda la Serie A da questo specchietto della Gazzetta dello Sport ieri si sono disputati due anticipi a Verona due vittorie esterne tra l'altro a Verona il Bologna ha battuto il Chievo per 3 a 2 a Cagliari vittoria della Fiorentina per 1 a 0 oggi alle 15 le altre gare abbiamo detto erroneamente in serata ma in serata si giocheranno solo due partite dunque si gioca alle 15 e alle 12.30 ci sarà la prima sfida della giornata tra Lazio e Crotone all'Olimpico poi Genoa Benevento Napoli Sampdoria Sassuolo Inter Spal Torino Udinese Verona alle 18 come dicevamo Milan Atalanta San Siro e poi il Clou alle 20.45 Juventus Roma andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere dello Sport a Muso Duro Juve Roma 20.45 il Big Match che profuma di Scudetto Allegri loro forti Di Bala non ho deciso Di Francesco il nostro obiettivo è vincere dunque queste le parole dei due tecnici e poi al San Paolo arriva la Sampdoria Reamsic va a mille con il Napoli e invece Gattuso avvisa il Milan temo una contestazione bisogna avere carattere e non fare altre brutte figure a San Siro c'è l'Atalanta prevista come teme anche il tecnico milanista Gattuso la contestazione dei tifosi rossoneri e il classico dei noantri questo è il titolo con dialetto romano per quanto riguarda il classico italiano che vede di fronte Juve e Roma e poi si giocherà come abbiamo visto anche Reals e Barcellona ma ovviamente le attenzioni degli sportivi italiani sono per la sfida dello Juventus Stadium tra bianconeri e giallorossi siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi l'ultimo della settimana con Mattino 6 io ringrazio Silvia Gentile in regia ringrazio voi per averci seguito e vi auguro anche a questo punto considerando che oggi è 23 dicembre un sereno Natale buona giornata grazie a tutti grazie a tutti